Gabriele a casa tutti bene serie televisiva io partirei dal finale del primo episodio ho trovato la scelta musicale la gazzaladra perfetta e anche abbastanza dissacrante rispetto ai personaggi me la racconti è nata perché è nata così come nascono le cose dovevo mettere la suoneria all'inizio non era così c'era però quando abbiamo iniziato a montare ho messo la suoneria di Sara che doveva essere una suoneria riconoscibile perché poi torna in altri episodi che appena suona dicono eccolo qua allora di mettere la gazzaladra è stata un'idea che poi appena messa non pensavo che l'avrei proseguita ma invece stavolta mente bene ed era così lirica così anche ironica perché c'è una grande ironia in quella sonorità in quel tempo in quel ritmo in quella girandola proprio che proprio la girandola dei personaggi fondamentalmente cioè restituisce molto bene l'idea alla base di questa serie in cui tutti sono legati a tutti tutti girano insieme agli altri come un waltzer infatti il waltzer è uno dei temi della colonna sonora cioè uno dei tempi di racconto musicali perché è proprio un continuo stare in movimento perché nulla si può fermare perché quando la prima pedina cade nel primo episodio che è quello della bisca da lì ci sarà un inesorabile effetto domino che crescerà esponenzialmente fino all'ottavo episodio e questa crescita sarà costante e davvero molto ben strutturata dal punto di vista di scrittura perché è incessante e c'è sempre qualcosa di più grave che accade e questo rende secondo me la serie molto molto potente insomma un'altra cosa che mi ha capito molto è una cosa che hai scritto a proposito della serie l'incapacità di essere felici tutti insieme in un momento in cui si dice sempre no il luogo comune che la felicità è felicità solo se condivisa questo è un concetto molto interessante secondo me appunto me lo spieghi dunque è la famiglia che nasce antropologicamente nasce perché mi perché il mammifero uomo ha bisogno proprio di essere protetto dal matrimonio come suggello anche anche addirittura come come forma di alleanze con altri villaggi per cui in realtà siamo mammiferi che hanno eletto parzialmente la monogamia o comunque il matrimonio come forma di aggregazione a volte anche obbligatoria forzata addirittura pianificata perché è una sorta di di veicolo di perché l'appartenenza diventi punto di forza e di difesa dagli altri perché nella natura dell'uomo c'è sempre stata l'aggressività la violenza la sovraffazione e la conquista tutto ciò se l'uomo a queste tensioni naturali queste tensioni ce le ha anche individualmente all'interno della famiglia e si scatenano inevitabilmente nella natura dei personaggi che compongono una famiglia quanto più è allargata quanto più è costretta in un ambiente che li costringe appunto a stare insieme nel film era l'isola qui è la gestione di questo ristorante diventerà che è proprio è il post c'è sei posseduto da quello che possiedi che è una forma di prigionia fondamentalmente quindi quando devi gestire tutto ciò insieme la natura degli uomini che è sempre così imprevedibilmente sorprendente a volte nel bene e a volte nel male viene fuori quindi i demoni saltano sulle spalle dei personaggi e li guidano verso traiettorie a volte impietuose a volte distruttive grazie Gabriele grazie mille grazie 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 a tutti.